Un caro saluto da Mario Giulianci, il tempo previsto per questo fine settimana tra il 4 e il 6 di gennaio, 6 giornata dell'Epifania. Bene, l'ondata di freddo artico giunta sull'Italia nella giornata del 3 insisterà ancora, il 4 e il 5, su tutta l'Italia, anzi la giornata del 4 sarà la giornata più critica sia in termini di intensità del freddo sia in termini di nevicate. Ma andiamo con ordine, vediamo allora la giornata dei merdi e fenomeni, come potete vedere nevicate fino alle coste su Marca, Abruzzo, Molise e Puglia, nevicate fino a quote molto basse, inferiore a 500 metri sui rilievi campani, su quelli del nord della Sicilia e sulla Lucania, temperatura è un ulteriore calo perché 4 appunto sarà l'apice del freddo, di questa ondata di freddo. Forti gelati su tutta l'Italia, venti forti e gelidi da nord-est soprattutto al centro-sud dove potranno raggiungere anche 80-90 km all'ora, intensificando il freddo per Windy Chill tant'è che a parità di temperatura si avvertirà un freddo diciamo più intenso di circa 10 gradi, come dire laddove ci saranno 10 gradi se ne avvertiranno quasi zero. Andiamo alla giornata di sabato, ancora freddo, ancora insistono le correnti fredde da Balcani su tutta l'Italia e quindi ancora debole nevicate fino alle coste però solo sulla Puglia, fino a quote inferiore a 500 metri sui rilievi campani sul nord-est della Sicilia, nevicate fino a fondo valle anche sulle Alpi di confine. Le temperature restano ancora al di sotto della media, gelate, diffuse su tutta l'Italia, venti forti sulle regioni meridionali. Infine arriviamo al giorno dell'Epifania, cessano le correnti fredde da Balcani e resta il coscinetto di aria fredda, ancora delle nevicate significative sulle Alpi di confine fino a quote molto basse, qualche debole nevicate nella prima parte del giorno sul Gargano, bello sul resto d'Italia, forti gelate soprattutto al nord-est e al centro, insomma ancora farà freddo su tutta l'Italia anche se le temperature al centro-nord saranno in lieve rialzo. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci. Grazie.